buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video di targato al tecnologico.com se non sei già iscritto al canale ti invito a iscriverti per rimanere la giornata sulle ultime guide e novità tecnologiche in questo video sostanzialmente aggiorniamo un video che abbiamo fatto in precedenza poniamo difatti il caso che tu sia in vacanza e debba intrattenere una conversazione con un'altra persona che non parla in italiano avevamo visto la modalità semplice dell'applicazione traduci di fatti cosa abbiamo fatto traduci avevamo attivato il microfono scritto il testo che volevamo tradurre e dopo mettevamo in ascolto quel testo trascritto per conversare appunto con l'interlocutore ma questa applicazione ha studiato anche questo caso andiamo su conversazione clicchiamo su questo pulsante faccia faccia cosa succederà poniamo di essere noi da una parte quindi vedi la lingua italiana e dall'altra parte del tavolo il tuo interlocutore con la lingua che desideri quindi ad esempio se parli con una persona che parla il francese metterai francese altrimenti potrai modificarlo da questo menu quindi poniamo che abbiamo un interlocutore che parli lo spagnolo cliccherai qua e dopo tornerai su faccia a faccia come vedi è ben riconoscere questo pulsante tu cliccherai questo pulsante detterai il tuo testo dire a suo testo come vedi verrà sia trascritto dalla sua parte che sarà dall'altra parte del tavolo e verrà anche vocalmente tradotto così potrà capire ciò che dici dall'altra parte lui schiaccerà il microfono parlerà nella sua lingua e a te apparirà il testo tradotto e anche verrà riprodotto vocalmente proviamo chiaramente non solo spagnolo però diciamo qualcosa di italiano così per vedere come apparirà da questo lato ciao ciao come vedi apparirà da quest'altro lato come se fosse appunto una vera e propria conversazione bene amici anche questo video è stato concluso se ti è piaciuto aggiungi un mi piace iscriviti al canale al prossimo video